Folder Custom Modello molto bello e particolare creato dal famoso Bob Terzola questo qui è un modello derivato dal suo modello 3A al quale lui poi ha aggiunto la lama in damasco e il tombstead in oro la manicatura è formata da due guancette in fibra di carbonio con un clip posteriore in titanio e con un solo liner in titanio il modello è apribile da una mano si impugna molto bene sistema di sicurezza liner lock davvero molto bello e ben fatto logicamente è un modello Gentremann da usare soltanto a determinate occasioni il coltello è molto leggero il porto è come vedete tip up nella lama c'è un falso controfilo che poi effettivamente sopra non arriva poi a essere a taglio